eccoci qua e oggi facciamo il bambino al malpese più sporco del mondo perché? perché fai male se tessi cuore, fa qualcosa perché è un gran buon conto abbiamo il barino che mi ricorda che abbiamo fatto a fare con la casca la casca, la nuova, luce, la regla, la piaccia, la coppia, la piaccia, la piaccia, la piaccia forza sneaky adesso ci asciughiamo ed ecco come un maltese da bianco diventa quasi rosa sei pronto sneaky? va bene le spazzole da fakiro? guarda un po' qua bravo si sembrano le spazzole dei fakiri però sono quelle che servono proprio per questo tipo di cane ma grazie a tutti grazie a tutti